E' stata presentata ieri pomeriggio presso la saletta Pignatelli della Fondazione dei Pellegrini alla Pignasecca la visita alla vigna di San Martino, organizzata dalla Fondazione per il giorno 26 aprile alle 10 e 30. Sarà questa l'occasione per conoscere un parco agricolo urbano tra i più antichi risalente all'anno 1000, dove si producono frutta, olio e vino aglianico, falanghina e catalanesca. La visita sarà accompagnata da poesie recitate dai monaci certosini di San Martino che gestiscono la vigna, diventato oggi monumento nazionale, e si potrà godere dello straordinario panorama visibile lungo il percorso. L'appuntamento è alle ore 10 e 30 all'ingresso storico di Corso Vittorio Emanuele 340. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato il professor Ernesto Cravero, consigliere della Fondazione e il presidente della stessa Giovanni Padula. La vigna di San Martino è qualcosa di magico, il veramente De Kunso, il grande soprintendente Mario De Kunso l'ha definito come un'opera di Tiziano ed è quanto di più bello potesse dire. Allora che cosa nella vigna di San Martino che cosa vediamo? Innanzitutto è veramente l'antica vigna della certosa di San Martino, con tutte quelle particolarità che sono i camminamenti, cioè il camminamento dei monaci, i terrazzamenti, le mura di sostegno, l'incredibile sistema idraulico che fanno invidia anche agli ingegneri idraulici del giorno d'oggi e poi soprattutto la particolarità del sito, la serenità, la bellezza, il silenzio del sito. Quindi questa esperienza che noi andremo a fare è quella di far conoscere ai confratelli un luogo di straordinaria bellezza, di straordinaria monumentalità e così via. E poi assaggeremo anche il vino della vigna. Ci sono quattro vitigni che ci danno del vino, la faranghina, l'alianico, ma anche la catalanesca che abbiamo trovato lì e abbiamo recuperato è un po' di piedi rosso che serve a dare un po' di corpo all'alianico, un po' così. Oggi infatti ci sarà la presentazione di questa passeggiata che si terrà nella vigna di San Martino, in un posto bellissimo di Napoli che merita di essere visitato. È una passeggiata che ha uno sfondo solidaristico perché i contributi che vorrà dare ogni partecipante alla manifestazione sarà devoluto in beneficenza per il centro didattico Pignatelli dell'Arciconfraternita dei Pellegrini.